Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorena, abito a Milano in provincia. Il mio lavoro è parrucchiera, per cui sono a contatto tutti i giorni con i clienti e purtroppo fino a poco tempo fa ero davvero in disagio perché comunque il mio sorriso non mi permetteva di essere così serena. Finalmente ho risolto questo problema grazie a questa clinica dove mi sono rivolta perché purtroppo mi ero rivolta diciamo in altre cliniche qui in Italia ma le cifre erano veramente molto alte dove bisognava per forza accedere ad un mutuo così mi sono rivolta loro in questa clinica dove hanno valutato il mio problema e dove diciamo prima cosa ho risparmiato, ho speso un terzo di quello che era la cifra in Italia mi hanno preso a carico il mio problema con un attac in 3D quindi hanno valutato tutto quello che era diciamo il problema della bocca mi hanno fatto i vari interventi e impianti, tutto quello che necessitava ad oggi sono stata una volta, dovrò ritornare una seconda, una terza volta e cosa vi posso dire? che sono delle persone veramente prima di tutto all'avanguardia persone a livello umano che proprio ti mettono a tuo agio e persone ad alto livello professionale se posso consiglio a tutti e con il cuore, lo dico con il cuore di affrontare questa esperienza perché veramente ne vale la pena io ad oggi sono molto più serena buongiorno a tutti buongiorno a tutti Grazie a tutti.